Ciao a Treviso per giocare a Carta Bianca, Carta Bianca? Certo, ovvio. Io sono Damiano Vincelli, attivista di Fridays for Future Treviso. E mi dai a Carta Bianca? Certo. Grazie mille. Qual è la novità? Beh, la novità è che l'Australia brucia da mesi e lo sappiamo ma non sappiamo ancora che dobbiamo agire in modo serio e radicale. Abbiamo portato anche qua la testimonianza di un attivista che vive in Australia e ci ha voluto comunicare quanto disastrose e terribili siano quello che sta passando il territorio e tutta la flora e la fauna dell'ecosistema. Per quanto l'Australia sia abituata a bruciare, sia nata per bruciare, gli incendi che stanno avvenendo in questo momento non sono più all'altezza. E per questo noi siamo qua e vogliamo ribadire il nostro concetto di fatto che la crisi climatica sia fondamentale e principale all'interno del nostro futuro e che se non combattiamo ora non potremo farlo in futuro. Il messaggio è arrivato nell'emisfero australe perché qui dal Boreale è tutto molto chiaro.